amiche e amici benvenuti nuovo video sul nostro canale loyalty manager tv e alessandro che vi dà il benvenuto come sempre vi invito a mettere un bellissimo mi piace commentate i nostri video se volete vedere altre situazioni di gioco del nostro manageriale se volete riportiamo altri contenuti intanto oggi vediamo insieme un bel video tutorial sul nostro regolamento video tutorial che si concentra sulla parte premiante del nostro manageriale quindi cosa succede a fine di ogni stagione quali più o meno insomma andremo a vedere un po tutte le nostre tabelle sono i premi che le nostre squadre andranno a ricevere cosa più o meno premiamo ed eventualmente anche le sanzioni che sono previste dal nostro regolamento allora innanzitutto partiamo col precisare due cose noi abbiamo mediamente o 4 o 5 leghe in base ai partecipanti possiamo ampliare possiamo ridurre questo lo decidiamo sempre appunto in base a quanti player sono presenti detto questo sono premiate in entrambe le leghe tutti i partecipanti quindi dal primo all'ultimo classificato vengono dati premi per le serie maggiori e per le serie primavera appunto le serie primavera che sono proprio quelle più premiate perché la volontà di loyalty manager è dare anche un senso molto positivo ai giocatori under 23 è un senso positivo a chi punta proprio su questa tipologia di calciatori ovviamente ci sono tutte le competizioni europee quindi champions league europa league conference league e supercoppa europea che vengono premiate dal primo al terzo posto sulla supercoppa europea come quella italiana vengono premiate i vincitori diretti e poi ci sono la coppa italia e la coppa italia primavera entrambe premiate dal primo al terzo posto in ultimo non perché è meno importante perché comunque un ricco premio la coppa della speranza una coppa che si gioca a conclusione della stagione calcistica che viene disputata fra gli ultimi quattro classificati delle leghe maggiori 4 o 5 insomma in base a quante sono le lighe qual è l'obiettivo di loyalty manager l'abbiamo detto in quasi tutti i nostri tutorial che trovate sul nostro canale l'obiettivo è l'equilibrio l'obiettivo è il divertimento l'obiettivo è la socialità quindi per permettere un corretto equilibrio questa tabella premi che non andremo a vedere essenzialmente nel dettaglio è studiata per poter dare un congro capitale di fantamilioni a ogni player in base alle classifiche certo sicuramente il primo classificato di serie a guadagnerà sicuramente rispetto all'ultimo classificato di serie d ma la differenza non sarà mai così molto evidente da fare in modo che l'ultimo player classificato in serie d possa poi trovarsi in difficoltà per pagare gli ingaggi o per fare eventualmente a futuri investimenti manageriale altre premiazioni che vengono fatte all'interno di loyalty manager sono i passaggi di turni delle coppe sia in champions league in europa league che in coppa italia in coppa italia primavera andremo a passare o a pagare un premio per ogni passaggio di turno fatto durante la competizione quindi dagli ottavi e quarti dai quarti alla semifinale ad esempio oppure se si è superati i gironi eccetera sono dei premi correlati ovviamente servono a incrementare il proprio bottino quindi è importante anche non cedere sempre alla tentazione di mollare perché magari è partita male la competizione perché anche un semplice passaggio il turno può darci quei milioncini utili a un acquisto sul mercato successivo ovviamente i primi classificati delle coppe non ricevono il ricevendo già il premio quello grosso quello più ambito non andranno a ricevere il premio dei passaggi del turno che spetterà dunque a chi non è riuscito arrivare sul podio quindi abbiamo detto ogni competizione primavera e maggiore di ogni lega dalla alla e o dalla d in base a quanti player ci sono avranno un monte premi in base alla posizione in classifica questo è molto importante ricordo perché tanto scorre il regolamento quello che facciamo lo facciamo per la volontà di far partecipare tutti in modo congruo quindi anche chi non è riuscito a fare una stagione positiva altri premi premi correlati premi correlati che sono molto importanti perché perché aumentano il bottino di fine anno si può tutti possono concorrere a questi premi e sono premi anche di rilevo si va dal pallone d'oro quindi andremo a mettere in votazione quindi saranno premiati sarà premiato da tutta la lega quindi sono tutti i player che decideranno tramite un sondaggio quale sarà il manager che dovrà ottenere questo ricco premio in votazione andranno i migliori giocatori vincenti di champions europa league serie a serie b serie c serie d e conference league quindi parliamo di competizioni maggiori ci sarà il premio della scarpa d'oro il guanto d'oro il capo cannoniere della serie maggiore della serie primavera quindi importante anche qui sfruttare bene le situazioni di gioco e le proprie giornate di campionato perché ci sono dei premi il miglior il miglior portiere verrà premiato il capo cannoniere verrà premiato e così via e qui vi faccio un'attenzione vi riporto ad andarvi a guardare in caso di dubbi i tutorial sulla compilazione dei tabellini perché questi importantissimi premi che come vedete sono cifre importanti rappresentano il risultato della compilazione corretta dei tabellini settimanali che ovviamente noi ricordiamo sempre i nostri player e laddove un tabellino e questa è un'altra cosa importante a sottoputare di gioco di una partita ufficiale non sia stato correttamente compilato settimanalmente verranno anche afflitte delle multe a chi gioca in casa che ricordiamo essere il responsabile del tabellino quindi capo cannonieri di tutte le competizioni maggiore primavera attualmente l'assisman purtroppo non è utilizzabile ma sarà utilizzato sicuramente in futuro il miglior portiere di ogni campionato solo serie maggiori ovviamente i migliori in campo il miglior in campo dei campionati primavera la difesa alta che sarà il premio assegnato alla peggiore difesa di ogni campionato prendo spunto da questo bel premio che abbiamo messo in palio perché come vedete anche le squadre che non hanno potuto competere perché il risultato sportivo non è stato positivo comunque possono ambire dei premi molto ricchi a difesa alta appunto mediamente viene assegnato a uno degli ultimi classificati delle serie il rullo compressore invece la squadra che ha fatto il maggior numero di gol oppure un catenaccio e contropiede premio assegnato alla squadra che va fatto il minor numero di gol in ogni campionato il cucchiaio di legno che viene assegnato alla squadra che ha totalizzato meno punti di tutti i campionati e il last send che sono le premi assegnato alle squadre classificate ultimi nei vari campionati sottolineo questi premi perché sono quello che più rende equilibrato il campionato dal punto di vista economico permette comunque a tutti di raggiungere un monte premi finale anche dopo una stagione di gioco disgraziata che li potrà permettere di andare avanti in maniera positiva il manageriale una citazione sui loyalty manager tv premi che diamo i contest che diamo a i nostri partecipanti perché ovviamente chiediamo durante la stagione una partecipazione attiva con dei video che rappresentano i gol migliorazioni difese migliori parati o partecipazione le nostre live che prevedono dei premi molto ambiti ovviamente noi andremo a dare un premio partecipazione generale perché poi quello che noi vorremmo raggiungere sempre come obiettivo ad ogni stagione è una partecipazione abbastanza attiva di ogni che non si riduca solamente a giocarsi la partita ufficiale e a compilare un tabellino ma magari che lo vede il protagonista anche a qualche partita in live piuttosto che in un calciomercato molto attivo o a partecipazioni anche con i video contest comunque sono premi che decidiamo noi organizzatori in base appunto all'effettiva partecipazione al manageriale attiva di ogni player andiamo a concludere il tutorial odierno anche citando quelle che sono le sanzioni e le ammende di cui nei vari tutorial che avrete sicuramente guardato sul nostro canale ogni tanto ne viene citato qualcuno è ovvio che come ci sono dei premi ci sono delle sanzioni e ovviamente anche delle ammende perché questo tende a tutelare quello che è la partita le partite e comunque il comportamento che noi vogliamo sempre positivo da parte di tutti quanti all'interno del nostro contest del nostro manageriale anche laddove comunque c'è un giusto sfotto comunque c'è una giusta partecipazione divertente comunque giusto avere delle regole precise quindi dalla partita non volontariamente non giocata giocatori infortunati che vengono schierati in campo giocatori squalificati giocatori non in rosa schierati in campo giocatori spostati nello schema di gioco ricordo che noi giochiamo con lo schema di gioco standard il tabellino errato come vi ho detto prima prevede una multa di 5 milioni quindi anche settimanalmente posso sbagliare un tabellino e sono tanti soldini poi che vengono detratti dal mio conto economico della mia società le autogol interruzioni quindi tutti quelli che sono ausili sleali o piuttosto utilizzi di bug vengono multati e vengono anche assegnate le ammende molto pesanti dai punti di penalità al blocco del mercato ad esempio creare polemica destabilizzare il gruppo nelle chat pubbliche pubblicizzare messaggi privati può addirittura arrivare ad avere una sanzione di 30 milioni blocco del mercato e in casi eccessivamente gravi anche l'allontanamento dal nostro manageriale questo perché il nostro è un gruppo dove si può assolutamente discutere si discute si discuterà sempre ma diverso è discutere per arrivare poi a polemizzare destabilizzare quello che è invece la voglia e la volontà di partecipare in maniera equilibrata da parte degli altri player mancato rispetto delle trattative di mercato l'errore in fase d'asta eccetera eccetera quindi come vedete anche la tabella delle sanzioni è abbastanza ricca tabella delle sanzioni che nasce con tanta esperienza con tante situazioni che purtroppo possono capitare capiteranno che ci hanno permesso nel tempo di fare un regolamento abbastanza equilibrato quindi amiche e amici della loyalty manager tv siamo alla conclusione del nostro video tutorial di oggi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale è molto importante che lo facciate soprattutto continuate a seguire i nostri video lasciando mi piace e commentate suggeritemi quali sono video nei commenti che possono interessarvi quali sono dei tutorial che possono essere utili alla a concepire a capire ancora meglio il nostro manageriale con la nostra tabella dei premi ricca e prestigiosa in primo piano alessandro vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video ciao